Amici di Storio Fuorigioco, ben ritrovati in un nuovo appuntamento con Football Mystery, la webserie che racconta storie curiose e singolari, a volte incredibili, del mondo del calcio. In tempi in cui si parla sempre più spesso di Superliga, viene da pensare come l'attuale format della Champions League, spesso precluda alle realtà meno blasonate, seppur ambiziose, quel palcoscenico europeo che in altri tempi era invece alla portata di chiunque riuscisse a far bene nel proprio campionato nazionale. Eppure ci sono state squadre che, seppur in rappresentanza di piccole realtà, sono riuscite a vivere l'ebbrezza della fase a gironi della massima competizione europea. Scopriamo quali sono le dieci città più piccole ad aver mai partecipato alla Champions League. Thun, 42.623 abitanti. Il piccolo club svizzero, attualmente in seconda divisione, si laureò vicecampione nazionale alle spalle del Basilea nel 2005 e nella Champions League 2005-2006 era in astri di partenza della fase a gironi in un raggruppamento con Arsenal, Ajax e Sparta-Praga. Guidato dal bomber ticinese Mauro Lustrinelli, il Thun si rese protagonista di una campagna europea più che degna, costringendo i Gunners alla rimonta al 92esimo con un gol di Dennis Bergkamp e giocando le partite interne al Wankdorff Stadion di Berna, storica sede della finale dei mondiali del 1954. Famagosta, 40.920 abitanti. Ai tempi della storica Coppa dei Campioni ad eliminazione diretta, le squadre cipriote vestivano spesso i panni di squadre materasso. In tempi moderni, la squadra cipriota della Nortosis nella stagione 2008-2009 si spinse fino alla fase a gironi sbaragliando nei turni preliminari gli armeni del Pionic, il Rapid Vienna e l'Olympiakos, per poi giocarsi la fase a gironi contro Werder Brema, Inter e Panathinaikos, restando anche imbattuto in casa. La Nortosis gioca le partite interne all'Arnaca, rappresentando una città famagosta dalla quale la squadra si è allontanata dopo l'invasione turca del 1974. Auxerre, 34.583 abitanti. Si è scritto spesso di questa storia di provincia del calcio francese. L'Auxerre ha avuto per anni lo stesso allenatore, Guy Roy, allenatore del club dal 1964 al 2000 e ancora dal 2001 al 2005 e ha giocato spesso in Europa nel fortino dell'Abbè Deschamps, il suo piccolo stadio. Nel 1996 l'apoteosi del titolo di Francia e la fase a gironi superata nella Champions League 1996-97 contro Ajax, Grasshoppers e Rangers Glasgow, con la corsa terminata nei quarti di finale contro il Borussia Dortmund. Nella stagione 2002-2003 l'Auxerre è di nuovo tra le grandi di Champions grazie alla vittoria sul Boa Vista nel turno preliminare. Stavolta il girone non sarà superato, ma i francesi si toglieranno lo sfizio di vincere Ibori contro l'Arsenal. L'Ierre 33.259 abitanti Guidato dal difensore Goliadornon che è nazionale belga Eric Van Meijer, il Liers approdò in Champions League nella stagione 1997-98, dopo aver vinto il suo quarto titolo nazionale dopo aver superato il preliminare contro la Nortosis. Un solo punto nella fase a gironi contro Monaco, Bayer Leverkusen e Sporting Lisbona, per una squadra che il 9 maggio 2018 ha cessato di esistere nonostante otto torfei nazionali in bacheca tra coppe e campionato. L'Anse 30.413 abitanti Ci rispostiamo in Francia per un club che banta una grande tradizione anche a livello internazionale, pur rappresentando un orgoglioso piccolo centro del nord della Francia, quello che ha ispirato il film Giù al Nord che di fatto è stato riadattato nel nostro Benvenuti al Sud. Il Lams ha sfiorato i quarti di finale nella stagione 1998-99, per poi ripresentarsi nella fase a gironi di Champions nella stagione 2002-2003 affrontando anche il Milan, ma senza riuscire a qualificarsi pur sopravanzando il Bayer Monaco. Mölde, 26.048 abitanti Tra il 2010 e il 2020, nel decennio scorso, il Mölde è stato dominatore del calcio norvegese conquistando quattro titoli nazionali. Ma il giro nella fase gironi di Champions se l'è fatto nella stagione 1999-2000, quando sbucò dai turni preliminari pur senza aver ancora conquistato il titolo nazionale, in quegli anni ad appannaggio quasi esclusivo del Rosenborg. Girone con Porto, Limpiacossa e Real Madrid, affrontato dignitosamente, e gol al Bernabeu rimasto nella storia, quello con la firma di André Limbeck. Farum, 20.312 abitanti Piccola cittadina danese del versante orientale della nazione, Farum ha vissuto il suo momento di gloria calcistica quando il club locale, il North Island, rinomato anche per il suo ottimo settore giovanile, è sbucato nella ribalta come campione di Danimarca nel 2012. E nella Champions League 2012-2013, il North Island ha affrontato la fase gironi con Chelsea, Juventus e Shakhtar Donetsk, imporendo il pari ai bianconeri nel match disputato in Danimarca. Urziceni, 17.534 abitanti Un club venuto fuori quasi dal nulla e con un simbolo mutuato direttamente dal Chelsea. Poca originalità, ma una grandissima impresa, quella dell'Unireo Urziceni, che sbucò tra le grandi storiche del calcio romeno vincendo il titolo nazionale e partecipando alla fase a gironi di Champions League nella stagione 2009-2010. Soccarda, Rangers, Glasgow e Siviglia, nel cammino del club della città dell'Ortica, Urzica in Romeno, che appena un anno dopo questo exploit, ha dichiarato fallimento ed è quindi stato escluso da ogni competizione calcistica nazionale. Monte Carlo, 14.586 abitanti Spunta un po' a sorpresa in questa classifica una delle città più ricche e modaiole del mondo, non solo in Europa. Il Monaco di fatto è una grande del calcio francese ed ha partecipato spesso alla fase a gironi di Champions, spingendosi anche a giocare la finalissima del 2004, perduta contro il porto di José Mourinho a Gelsenkirchen. Ma di fatto Monte Carlo è una città con meno di 15.000 residenti, essendo capitale di un principato che è, come tutti sanno, anche sede di uno dei gran premi di Formula 1 più iconici dell'automobilismo. Offenheim, 3.263 abitanti La città che vince per distacco questa classifica è il famoso Chievo tedesco che dal 2008 frequenta i piani alti della Bundesliga che ha giocato spesso in Europa. Offenheim è di fatto una frazione di Sinsheim, comune di 35.399 abitanti, dove sorge la Rhein-Neckar Arena, stadio che ha visto il club bianco-blu disputare anche la fase a gironi di Champions League e lanciare un giovanissimo profeta del calcio offensivo in panchina, Julian Nagelsmann. Nella stagione 2018-2019, partite ricche di gol e spettacolo, ma solo tre punti racimolati nel girone con Manchester City, Lione e Shakhtar. Se il video ti è piaciuto non dimenticare di lasciare un like e soprattutto di iscriverti al canale per essere sempre aggiornato sui prossimi appuntamenti di Football Mystery. Alla prossima!